Buonasera, è durato quasi due ore questa mattina l'interrogatorio dell'unico albanese sopravvissuto all'attentato di via del Collegio d'Imperia. Dopo essersi rifiutato di rispondere in precedenza, sembra che ora il 19enne abbia cambiato idea, ma nulla trapella circa le sue dichiarazioni ai magistrati. È durato due ore questa mattina l'interrogatorio di Mretyev Ismagiukay, l'albanese di 19 anni unico sopravvissuto nel comando di tre attentatori che ha provocato la terribile esplosione della sala giochi di via del Collegio d'Imperia. L'interrogatorio è avvenuto nel carcere d'Imperia dove il giovane era inchiuso alla presenza dei suoi avvocati, dei pubblici ministeri Grazia Pradella e Roberto Cavallone e del capo della squadra mobile Giuseppe Lo Deserto. Inizialmente l'indagato aveva rifiutato di rispondere, ma ora ha evidentemente cambiato idea, anche se sulle dichiarazioni che ha rilasciato agli inquirenti viene mantenuto il più stretto riservo. In base a quanto affermato da Mretyev Ismagiukay, le indagini potrebbero avere una svolta. Bisogna infatti capire se i tre albanesi, due dei quali rimasti uccisi a seguito dell'esplosione, abbiano agito da soli, oppure se dietro l'attentato vi sia un mandante. Intanto proseguono i lavori di sgombero delle macerie che consentiranno alla polizia scientifica di eseguire ulteriori rilievi per comprendere in modo definitivo cosa abbia realmente causato uno scoppio in grado di distruggere, oltre alla sala giochi, anche due appartamenti e una lavanderia e dannaggiare seriamente una vicina palestra. Il caso dell'abbattimento dei chioschi di Piazza San Siro a Sanremo si complica. Il Tribunale di Imperia è infatti convocato per mercoledì prossimo il Comune di Sanremo che dovrà rispondere della rimozione di alcuni chioschi per i quali il giudice aveva disposto una sospensiva. A parlarcene è stato l'Avvocato Davide Oddo, difensore di alcuni esercenti. Sentiamo. Avvocato, ci sono delle novità per quanto riguarda l'abbattimento di alcuni chioschi? Purtroppo i chioschi ormai sono stati abbattuti malgrado il nostro ricorso al Tribunale per ottenere una sospensione senza la convocazione del Comune. Il Tribunale ha ritenuto necessario convocare il Comune, quindi ci sarà un'udienza mercoledì prossimo dove verrà affrontato questo problema. Ovviamente noi riteniamo, dopo aver esaminato dei documenti, importanti e anche molto risalenti nel tempo. C'è una sentenza del Tribunale penale di Sanremo del 1978 che ritiene lecita la costruzione di questi chioschi. C'è una convenzione del 2006 che prevedeva una permanenza di 12 anni, 6 più 6, salvo spostare i chioschi nella nuova costruzione che il Comune doveva realizzare in Piazza Muccioli. I miei clienti non sono mai stati contrari a spostarsi in Piazza Muccioli, ma l'accordo firmato dalle parti prevedeva che il Comune realizzasse i chioschi e loro ci sarebbero spostati. Adesso il Comune, senza essere stato in grado di realizzare i chioschi, gli ha demolito le loro attività commerciali e pur ridonando alla piazza una sua dignità che tutti apprezziamo, ha messo quattro famiglie e metto una strada. Quali provvedimenti saranno presi adesso? E questo dipenderà dal Tribunale. Ovviamente i chioschi non verranno più ricostruiti, ma noi speriamo che venga fatta giustizia, vengano riconosciuti i diritti di queste persone e se qualcuno ha sbagliato pagherà dei danni. Questa è una vicenda molto lunga, difficile. Si parla di commercianti non abusivi? Assolutamente non sono abusivi. Come le ho detto c'è una sentenza del 1978 che dichiara la legittimità della costruzione di questi chioschi. Sono persone che pagano regolarmente le tasse, avevano una concessione di suolo pubblico e non hanno mai violato la legge. Io mi permetto di dire che avrei auspicato questa severità e questa incisività di azione nei confronti di tutti i commercianti abusivi che svolgono la loro attività a pochi metri da questi, che invece pur risolgendola lecitamente sono stati buttati in mezzo alla strada. Controlli intensificati nella zona di confine dopo gli ultimi attacchi terroristici. L'attenzione dei carabinieri si è concentrata in particolare sulla detenzione di armi. Agli arresti è finito un uomo trovato in possesso di una pistola con la matrice a brasa ed il colpo in canna pronta a sparare. Non c'è nessun allarme preciso, come più volte detto, ma l'attenzione delle forze dell'ordine nella zona di confine è aumentata. In particolare dopo i recenti attacchi terroristici registrati in Francia e in altre parti del mondo, i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, incentrando la propria attenzione in particolare sulla detenzione di armi e sullo spaccio di sostanze stupefacenti. Un lavoro importante che vede impegnata in prima linea tutta la compagnia dei carabinieri di Ventimiglia, comandata dal maggiore Giorgio Sanna ed il nucleo operativo radiomobile comandato dal tenente Giovanni De Tommaso. Nel corso delle verifiche è stato arrestato, con il supporto anche dei militari di Ventimiglia alta, un uomo di 59 anni, incensurato ed originario di Catanzaro, trovato in possesso di una pistola semiautomatica 765 con la matrice a brasa e relativo munizionamento. Il tutto era nascosto nella sua abitazione. La particolarità era che la pistola, su cui ora saranno effettuate delle verifiche, aveva il colpo in canna ed era quindi pronta per sparare. Il 59enne, dopo l'udienza di convalide, è stato ristretto agli arresti domiciliari. A seguito dei controlli del nucleo radiomobile, è stato poi arrestato un algerino di 26 anni, sorpreso in flagranza di reato di spaccio. Lo straniero è stato infatti fermato dai militari, intervenuti in abiti civili, mentre stava cedendo una dose di eroina ad un tossico dipendente. In suo possesso, oltre ad altre dosi di droga, sono stati trovati più di 600 euro, probabile provento dell'attività illecita. Processato per direttissima, è stato condannato ad un anno, con pena che però è stata sospesa. E diversi controlli sono stati eseguiti la scorsa notte anche ad Imperia, dalla polizia in particolare nelle zone locali frequentate da stranieri. Numerose le persone identificate, anche se non è emersa alcuna particolare segnalazione. Un plauso alle forze dell'ordine per l'intensificazione dei controlli, giunge da Alessandro Casano, consigliere comunale imperiese di Fratelli d'Italia, che ha auspicato che i controlli siano ulteriormente intensificati. Casano ha anche sottolineato come l'Italia spenda oltre un miliardo di euro per la solidarietà ed abbia destinato all'ordine pubblico soltanto 124 milioni. Ancora proteste e segnalazioni da parte dei cittadini per le file di attesa, per esami all'Asl imperiese. Al centro delle critiche in questo caso c'è il reparto di oculistica. Il servizio. Alla nostra redazione sono giunte nuove proteste per le lunghe attese per visite mediche nell'Asl imperiese. Questa volta al centro delle critiche c'è il reparto di oculistica nel quale sembra che per sottoporsi a un intervento di cataratta sia necessario attendere fino a 18 mesi, mentre nella vicina provincia di Cuneo si ottiene un appuntamento nell'arco di 4 mesi al massimo. Da qui la fuga di pazienti verso altre regioni. Nonostante questo, tanto all'oculistica imperiese come in tutti gli altri reparti e ospedali Liguri, prosegue l'attività privata da parte di medici e primari che operano all'interno delle stesse strutture pubbliche a pagamento con liste di attesa decisamente molto meno lunghe. Una situazione regolare dal punto di vista legale e procedurale, ma decisamente molto discutibile, soprattutto se vista e vissuta dalla parte dei pazienti che pagano le tasse e che magari non possono permettersi di sostenere le spese per le cure di cui avrebbero bisogno. Nuovo appuntamento mercoledì prossimo per l'associazione Palo Libera Tutti impegnata nella delicata questione della violenza sulle donne. Alle 10.30 infatti in programma un incontro presso il Polo Universitario in Periese alla presenza di importanti relatori. Ne abbiamo parlato con la presidentessa dell'associazione, Jackie De Luca. Sentiamo. Jackie, mercoledì prossimo, nuovo appuntamento con l'associazione Palo Libera Tutti. L'appuntamento sarà al Polo Universitario in Periese, è così? Sì, nella giornata mondiale contro la violenza di genere. Anche quest'anno abbiamo organizzato un grosso evento con un'utenza un po' diversa perché è principalmente rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori e universitari. Ci saranno tre relatori d'eccezione. Intanto l'incontro sarà in Aulamagna, appunto, a partire dalle 10.30 a 10.45. Ci sarà Veronica De Laurentiis, conduttrice tesimone di Amore Criminale e poi che racconterà appunto la sua storia di violenza molto, molto toccante ma anche la sua rinascita. Ci sarà il magistrato della Suprema Corte di Cassazione ad approfondire gli aspetti giurisprudenziali, a raccontare che cos'è la violenza psicologica prima che diventi fisica, quindi anche una grande forma di sensibilizzazione e di prevenzione. Domenico Chindemi, ci sarà il dirigente della squadra mobile, il dottor Giuseppe Lodeserto, che ci aiuterà a comprendere le dinamiche che si devono effettuare nel momento in cui una donna decide di chiudere la porta in un momento in cui l'adrenalina è al massimo e partire con quello che io chiamo l'atto di coraggio che è proprio la denuncia. Quindi 25 novembre, Aula Magna, Polo Universitario Imperiese, l'invito Federico è rivolto a tutti. Sì, perché ci saranno le scuole, ma può venire chiunque a partecipare. Chiunque, assolutamente. Oggi è ad Andorra la presenza del sindaco e presidente dell'Unione dei Comuni della Valmerola in Montarosio, Mauro De Micheli, si è tenuta la presentazione di quattro leggi da parte del presidente del gruppo consigliare di Forza Italia e Regione, Angelo Vaccarizza. Le proposte di legge sono volte a migliorare la normativa regionale sull'Unione dei Comuni. Sentiamo. Come sapete, nel 2015 abbiamo costituito questa nuova Unione dei Comuni Valmerola e Montarosio, ma la Regione Liguria non ne fa menzione nella sua regge regionale. La legge nazionale consente non solo l'Unione dei Comuni, ma consente anche che queste Unioni dei Comuni possano essere a cavallo fra province. Di questa normativa la Regione Liguria non ne ha mai fatto menzione. Io ho chiesto alla Regione Liguria, in particolar modo al capogruppo Vaccarezza, di occuparsi di questa pratica. Soprattutto tenendo conto dei problemi che abbiamo su protezione civile, servizi sociali, polizia municipale e anche sui rifiuti. Questo parrebbe che verrà fatto. E naturalmente noi ne siamo molto orgogliosi e ne diamo atto. Questa mattina a Quadrandora noi presentiamo quattro proposte di legge. Sono quattro proposte di legge emendative, emendano quattro leggi regionali che si occupano una di rifiuti, una di servizi sociali, una di protezione civile e una di polizia. All'interno di questi emendamenti noi abbiamo inserito le Unioni dei Comuni e soprattutto abbiamo inserito le Unioni dei Comuni che hanno nei loro comuni aderenti, comuni che ricadono in province diverse. Già che c'eravamo abbiamo tolto anche le comunità montane perché la Regione Liguria non si era resa conto che le comunità montane non ci sono più sul nostro territorio. Credo che sia un'attenzione al territorio. La richiesta arriva da questa Unioni dei Comuni che è particolare nella mappa delle Unioni dei Comuni Liguri e credo che questa amministrazione regionale che ha la particolarità di avere 13 ex-indaci nelle sue fila in questi anni avrà particolare attenzione a quelle che sono le esigenze dell'ente più importante e in questo momento più debole da difendere che è il Comune. Quello che deve dare risposta è che troppo spesso è il primo a cui a livello nazionale si caricano i tagli e che poi non riesce più a dare servizi ai cittadini. Siamo qui ad Andorra in questa occasione molto piacevole in considerazione del fatto che la Regione in modo molto efficiente si è mossa nell'attuare una di quelle norme di dettaglio di secondo livello, norme regolamentari che permetteranno alla nostra Unione Valmerola-Montarosio di poter realizzare le funzioni secondo il dettato normativo nazionale. L'Unione dei Comuni Valmerola-Montarosio è stato un atto amministrativo che è nato praticamente un anno fa dalla sinergia tra realtà amministrative con termini che hanno delle cose in comune e che hanno dei progetti in comune. A un anno di distanza si può fare già un primo bilancio e questo bilancio è nettamente positivo perché abbiamo superato tanti confini, tante barriere a cominciare da quella del campanile e si sta lavorando davvero bene insieme. Adesso una tappa ulteriore è quella della necessaria modifica adeguamento normativo regionale che ci consenta di lavorare fino in fondo per la costruzione associata delle funzioni e per progettare un futuro per le nostre realtà territoriali, per i nostri comuni. Ovviamente parlo da sindaco del Comune di Cesio affinché possano questi comuni costruire qualcosa insieme. L'ammiraglio Giovanni Petorino, comandante della Capitaneria di Porto di Genova è il nuovo commissario straordinario dell'autorità portuale di Genova. Lo ha nominato il ministro delle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio oggi a Genova per salutare il presidente uscente Luigi Merlo. Del Rio ha evidenziato che l'incarico di Petorino avrà una durata di due mesi in attesa della nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale genovese. Il ministro ha anche spiegato che è prassi del ministero che il commissario sia il comandante della Capitaneria del luogo. San Rem diventa più verde grazie ad un progetto Un nuovo albero per la nostra città che prevede la piantumazione ogni anno di un giovane albero per ogni neonato o minore adottato. Per il primo semestre 2015 il progetto ha portato alla creazione di una superficie boscata limitrofa alla pista di atletica di Pian di Poma con 146 piante di specie diverse, tutte di alto fusto. Questo nuovo spazio sarà inaugurato domani mattina alle 11 in occasione della giornata nazionale dell'albero celebrata con lo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano. Vicenda del contorno è ancora poco chiara. La scorsa notte a Sanremo dove i carabinieri hanno sorpreso due uomini entrambi pregiudicati per vari reati che avevano appena gettato una bottiglia di liquido infiammabile. Il sospetto è che avessero appiccato il fuoco a due autovetture parcheggiate in via San Francesco. Le fiamme sono state domate in poco tempo dagli stessi militari. Le indagini sono in corso. Due italiani, 37 anni rispettivamente, di 20 miglia a Valle Crozi sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo radiomobile della città di Confine per furto di rame. I due sono stati sorpresi in un'area di sbessa di Bevera a bruciare 40 kg di cavi per liberarli dalla guaina e recuperare quindi il metallo. Sono in corso indagini per risalire all'origine dei cavi di rame. Durante i controlli sul territorio, i militari hanno proceduto con altre denunce per guida senza patente e porti giustificato di arnesi atti allo scasso. Domani mattina d'Imperio alle 11, verso il Duomo di San Maurizio ad Imperio, all'arma dei carabinieri festeggia l'annuale ricorrenza della celebrazione della sua patrona, Maria Virgo Fidelis. La Santa Messa sarà ufficiata dal Vescovo Monsignor Mario Oliveri e accompagnata dal Coro Diocesano. Con questa giornata di religioso raccoglimento, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Luciano Zarbano, a seguito dei tristi eventi di Parigi, intende anche esprimere la solidarietà all'arma della provincia ai vicini colleghi della Gendarmeria nazionale francese che saranno presenti alla celebrazione. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo subito dopo. La società, le società di rugby e di tiro con l'arco che gestiscono gli impianti di Baitea d'Imperio hanno stretto un accordo con la casa circondariale del capoluogo per l'impiego di carcerati nella manutenzione delle strutture. Gli impianti si estendono infatti per oltre due ette. Rivediamo. Luigi Ardoino è il presidente dell'Imperio a Rugby, anche responsabile di un progetto provinciale di scuola di rugby. Qui c'è questo meraviglioso campo di Baitea, un appensamento di terreno importante. Oggi siete qui insieme al direttore delle carceri perché c'è un progetto che vi ha comune. Sì, ringrazio prima di tutto il dottor Frontirei che è il direttore della casa circondariale di Imperio Sanremo con il dottor Gandalini che è l'educatore che si occupa di questo progetto. Il nostro progetto molto sinteticamente coinvolge le società sportive che insistono su questa area, l'area di Baitea per cui l'Imperio a Rugby, la Union Rugby Riviera, gli arcieri imperiesi e coinvolgono le tre società che con l'aiuto della casa circondariale ci hanno dedicato alcune persone che ci permettono di fare tutta una manutenzione dell'area che è veramente grande. Alessandro Castaldo è invece il direttore tecnico dell'Imperio a Rugby. Avete un progetto scuola anche, quindi anche i giovani possono avvicinarsi a questo sport sicuramente. Noi sono da sei anni che svolgiamo attività per i giovani, da due anni abbiamo tutte le categorie, quindi under 6, under 8, under 10, under 12, 14, 16, 18. È un buonissimo risultato, 150 atleti. E poi svolgiamo anche un'attività scolastica, promuovendo questo sport, facendo attività propedeutiche a rugby, quindi non andiamo a fare rugby nelle scuole, ma attività propedeutiche per far appassionare, far capire lo spirito del rugby ai bambini. Giovanni Nisco, segretario dell'Imperio al Rugby, ma anche consigliere della Federazione Regionale del Rugby. Credo che in Liguria non ci siano tantissime strutture belle come queste. Noi abbiamo la struttura più grande della Liguria, in Liguria siamo la seconda società per il numero di iscritti, solamente dopo Genova, contiamo come ragazzi e grandi 220 iscritti. L'attività si svolge dal lunedì al sabato e domenica, senza ombra di dubbio, sabato e domenica dedicate alle gare per chi ha il campionato, al campionato. Per chi invece, come i piccoli, che giocano per avere mini-regby, o mini-regby, giocano per concedramenti. Giuseppe Barbarino invece è Presidente degli Arcieri Imperiesi, perché qui giustamente siete anche voi in questa zona di Baetè, tra l'altro avete anche uno spazio al coperto molto bello. Siamo dotati quest'anno di questa struttura, con un investimento non indifferente da parte della società, per poterci affrancare da quello che è il problema degli impianti sportivi comunali, che sono sovraffollati in maniera impressionante. Siamo riusciti a fare questa struttura, stiamo finendo di fare i lavori, come vedete c'è ancora da fare la pavimentazione e altre cose, però insomma siamo riusciti a fare questo lavoro e ci ha dato una libertà e una possibilità di lavorare con i giovani e con i grandi in una maniera molto diversa da quello che facciamo prima. Dottor Francesco Frontierre, direttore della Casa Circondariale di Imperie di Sanremo, c'è questa collaborazione che significa anche dare una possibilità a chi è recluso, chi è in carcere, di poter uscire e rendersi utile, magari traguardando anche un futuro diverso per lui? Ma guardi, noi abbiamo fatto una scelta di collaborazione sia con il Rugby che con il Comune, mi risulta che questo territorio del Comune è dato in uso alla Rugby. Il mondo dello sport è sempre un mondo che ha dei valori, in particolare il Rugby ha dei valori tutti suoi, quindi il fatto di averli avviati in questa realtà vuol dire intanto rendersi utili per quanto rigoncerne la sistemazione qui dalla parte del verde e di questa struttura e allo stesso tempo vivere delle condizioni di comunità, di convivenza con altre realtà che possono essere comunque utili ai soggetti che abbiamo individuato e che vengono qui a svolgere l'attività. Ecco, quanti sono i detenuti coinvolti? Attualmente sono quattro i detenuti coinvolti, non escluso che si possano anche aumentare. E qui vi devo ricordare che sono fra arceri, mi pare, il Rugby, sono circa 250 soggetti che fanno sport attivo, tutte le fasce d'età e questo penso che sia un qualcosa che possa essere di grande utilità per chi è stato per lungo tempo chiuso ed escluso dalla collettività sociale. Centinaia di visitatori hanno apprezzato l'esposizione della collezione privata dell'imperiesi Sergio Cecchinell, allestita nelle sale della Biblioteca Civica d'Imperia. L'esposizione si è conclusa oggi, ma Cecchinell spera di trovare ulteriori occasioni per mettere a disposizione del pubblico i tanti cimeri dedicati alla storia del commercio e dell'olio ad Imperia. Vediamo. Sergio Cecchinell è il collezionista che ha reso possibile questa mostra in occasione di Olio Oliva con una prosecuzione, oggi termina, ma è un segnale un segnale comunque per la città perché qui ci sono tantissimi reperti preziosi della storia di Imperia, anzi di Oneglia e di Porto Maurizio, prima dell'unificazione e poi di Imperia, sulla vita legata al commercio dell'olio. Reperti che arrivano da ogni parte del mondo perché qui vediamo come l'olio imperiese arrivasse negli Stati Uniti, nel Sud America, ovunque. Seguivano l'immigrazione degli italiani, quindi sono intervenute le raffinerie per fare l'olio come era gradito ai calabresi, ai siciliani, ai veneti, eccetera. Quindi la grande espansione seguiva proprio sui bastimenti che portavano gli emigranti in Sud America, nel Nord America, specialmente poi in Australia, in Gran Bretagna, eccetera, seguivano già l'olio. Là avevano già i grandi depositi che erano italiani, infatti si vede dalle cassette di spedizione, erano tutte grandissime ditte italiane che importavano e si facevano fare anche il marchio che volevano loro. Ecco, tra l'altro troviamo delle opere d'arte vere e proprie nelle pubblicità dei primi del Novecento, poi contenitori in metallo, damigiane, cassette di legno, bottiglie, manifesti pubblicitari. Qui sono esposte una parte, circa 300 pezzi, io penso ad arrivare quasi a 3.000 perché all'inizio della mia collezione erano i listini che è una delle cose più belle che ci sono, poi le fatture, che le fatture quando va a dei grandi mercati, alle fiere, cose ci sono. Una grande passione e anni di lavoro per raccogliere tutto questo materiale, certo che sarebbe bello che tutto questo fosse visibile sempre. Sempre, io lancio un appello, non dico di fare un museo, ci mancherebbe altro, che è una cosa troppo complessa, ma mi dassero dei grandi locali da poter poi sviluppare tutto il materiale che ho io e metterlo in ordine di periodi o di annata e di ricostruire un piccolo scagno dove lavoravano gli uffici, tutto questo da una mostra, ma ci vuole tanto spazio, tanto, tanto perché la gente lo possa godere, vedere e capire. Capire che cos'era Imperia nel mondo un tempo, il peso commerciale che aveva. Infatti, io ho un pannello che una volta è capitato di trovare un pacco di buste di corrispondenza. Tanto era conosciuto, specialmente Onelia, che arrivano delle lettere di richiesta di olio dall'Iran, dall'Argentino, dalle parti c'era scritto Onelia Italia, basta, nome dalla ditta, Onelia Italia, quindi era tanto conosciuto, infinito, infinito, esportavano in ogni angolo del mondo. E come era già stato ventilato nei mesi scorsi, il Moaca tornerà in centro a Sanremo. Per l'edizione 2016, la mostra mercato internazionale dell'artigianato sarà infatti allestita al palafiori di Corso Garibaldi. Si tratta in qualche maniera di un ritorno alle origini passate, infatti il Moac aveva sede proprio in quel sito dove allora c'era il mercato dei fiori. Questo spostamento, che ha ricevuto l'assenso dell'associazione di categoria, comporterà una riduzione degli espositori da 230 a 90, puntando sulla qualità e sulla vera natura artigianale dei prodotti esposti. La rete dell'invecchiamento attivo di Imperia informa che a causa di un improvviso problema tecnico il corso di informatica Digital Divide impugna il mouse e mette in rete la memoria, in programma per lunedì alle 14 all'Istituto Ruffini, è stato spostato a mercoledì prossimo a stesso luogo, a stessa ora. Proseguono la prossima settimana i corsi dell'Uni 3 di Imperia. A partire da lunedì dalle 15.30 si daranno lezioni di astronomia, computer, scrittura, letteratura e musica. La sede dei corsi lunedì è alla società operaia di Via Santa Lucia, mentre da martedì a venerdì le lezioni sono ospitate presso l'ex palazzo comunale di Piazza Dante. E sono in atto gli ultimi preparativi per allestimento dei mercatini di Natale a 20 miglia, che saranno ospitati nei giardinetti pubblici Tommaso Reggio per un mese, dall'8 dicembre al 7 gennaio. Luce e musiche natalizie lietteranno le passeggiate ai giardini, che diventeranno un vero e proprio villaggio di Natale animato da attività ricreative. Bene, ora vediamo gli appuntamenti di Riviera e Venti, i cantieri, sull'autostrada dei fiori e il quadrometrio. Grazie a tutti. Questi cantieri della settimana, dal lunedì 16 a venerdì 20 novembre, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona, confine di Stato. In direzione Francia, careggiata nord, tra Albenga ed Andorra, careggiata a doppio senso per lavori sulla careggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Armaditaggi e Sanremo, cambio di careggiata per il rifacimento dreno alla Galleria Moretti, da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, careggiata sud, tra Sanremo ed Armaditaggi, careggiata a doppio senso, per lavori sulla careggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Andorra ed Albenga, cambio di careggiata per il rifacimento della pavimentazione, da lunedì a venerdì anche notturno. Nell'ambito dei lavori programmati per adeguamento sismico al viadotto Liveto 2, sull'autostrada dei fiori, è chiusa la rampa di entrata dello svincolo di Imperia Est, in direzione Francia, per i veicoli diretti a 20 miglia. La chiusura è programmata a salve eventuali rinvii per il maltempo, fino alle 18 di sabato 19 novembre. Con il bollettino metro di Arpa al meteo a Liguria, vediamo le previsioni per domani, sabato 21 novembre. In mattinata ancora mareggiata intensa sulle coste della nostra regione, con fenomeni residui nel pomeriggio sul centro Levante. Il flusso meridionale viene sostituito nel corso della giornata da venti da ovest a nord-ovest, tra moderati e forti, con rapida attenuazione della nuvolosità e con il ritorno del tempo soleggiato e temperature in calo dal pomeriggio. Umidità su valori medio-bassi, venti in mattinata ancora da sud-ovest fino a Burrasca, da metà giornata ingresso di venti da nord-ovest fino a forti e rafficcati. Con mareggiata intensa nelle prime ore della mattinata, segue un calo del moto ondoso a Ponente sul centro Levante con mareggiate residue. La protezione civile segnale in mattinata ancora mareggiata intensa e più consistente sullo spezzino, eventi da sud-ovest fino a Burrasca. Nel pomeriggio mare in calo a Ponente, mareggiate residue a Levante, eventi da ovest a nord-ovest fino a forti a Ponente. Bene, noi ci vediamo qui, l'appuntamento torna alle prossime edizioni, se volete sul nostro sito imperiativo.it, sul profilo Facebook, su Twitter e se volete ricevere l'imperiativo su cellulari e tablet, basta scaricare l'apposita app gratuita. Bene, grazie per l'ascolto a tutti voi, una buona serata. Grazie per la visione!